Sono qua, il Drago! Vieni qua, Drago! Ehi, ah, un'intervista. Scilli, oggi hai fatto una cosa eccezionale. Eh, gran partita oggi, siamo andati bene, molto bene. Dedico i gol alla società, a Luca, a Stefano, al Vister che mi sta facendo giocare. Grazie, grazie, a Teghero Mucho, Brasile, mi sta aspettando. Ma quanti gol?